Adesso il professor Salvatore ci illustrerà ancora gli aspetti più importanti e generali della genetica predittiva. Grazie dottor Giuliani, senatore Danna per questo invito, sono molto grato per questa presenza, in realtà ho un po' cambiato il mio titolo, perché del gene editing parleranno autorevoli studiosi, subito dopo nel corso della giornata e anche sulla parte del human genome come medicina predittiva, ha parlato così bene la professoressa Gurrieri che parlerò un po' di aspetti che sono un po' diversi, anche se mostrerò alcuni esperimenti che sono stati fatti nel mio laboratorio in particolare. Noi siamo al centro di questa slide, noi siamo dei fenotipi metabolici, come si suol dire, e siamo soggetti nel bene e nel male, se mi permettete di dirlo, ad una serie di variazioni che possono essere, sono fortunatamente per noi quando lo sono, fisiologiche, come usiamo dire nel linguaggio corrente, oppure invece patologiche, quando purtroppo inizia ad esserci una malattia. E vedete quante frecce, sia verdi che rosse, arrivano su questo fenotipo metabolico e se le sue possibili e poi attuali variations, e alcune sono, come sul dirsi, genetiche, cioè ci vengono dal pool di geni, detto un aforismo un po' spiritoso, dice choose your gene pool from your parents, ma questo si sa che non è possibile, ed è scherzoso. E allora, come ha detto molto bene la relatrice che mi ha preceduto, leggere l'human genome, diciamo la sequenza, è una cosa intelligente, non perché ci interessa soltanto la sua costituzione genica, per quello che poi sappiamo su questi geni, e ne sappiamo ancora poco, anche se con grandi passi veloci che sta avvenendo negli ultimi anni, ma, diciamo, questo human genome di recente, diciamo negli ultimi vent'anni, quindi non proprio tanto recente, ha assunto un'altra serie di genomi che lo accompagnano, a partire dalla nascita, ma anzi si è visto prima della nascita. Questo viene chiamato con termine generico di human microbiome, che non è umano ovviamente, appartiene ai signori batteri, che sono nel nostro organismo, ma ci accompagnano fin dall'utero. E quindi è chiaro che ne dobbiamo tener conto, perché essi contribuiscono, collaborano strettamente con quelle che sono le funzioni del nostro genoma. Ed ecco quindi che parlerò un pochino anche di questi aspetti, anche perché, come dirò, abbiamo un po' lavorato, ottenendo alcuni risultati che ci sono sembrati utili in questa ottica. L'epigenetica, è ovvio, e con le varie definizioni che si sono susseguite negli anni su questa branca così importante, è chiaro che poi contribuiscono moltissimo a quello che alcuni hanno detto, e qualche volta l'ho detto anch'io agli studenti, il DNA è un po' uno stupido che sta lì e non sa che deve fare se non ci stanno tanti e tanti altri fattori che ne modulano la sua attività, la sua interpretazione, il suo gioco negli organismi viventi. Ed ecco che questa epigenetica, quindi, come anche è stato già detto, ha anche una grande influenza. E anche qui ci sono frecce rosse e verdi perché possono far bene o male a quella che noi chiamiamo l'omeostasi fisiologica di un organismo. E poi ci sono, vedete, una serie, non ne parlerò molto, ma vedremo un pochino, nel corso del tempo, di questa mia lecture, prego il Presidente di volermi dare un cinque minuti di avviso prima della fine perché qualche volta io sforo facilmente lasciandovi prendere da divagazioni un poco non tanto concesse. E voi vedete che qui il grosso fattore sono le drug, per dire, le medicine, che sicuramente hanno un effetto benefico, ma hanno anche un effetto, diciamo, poco favorevole perché hanno tutte effetti collaterali che ovviamente variano dall'uno all'altro individuo e che oggi incominciano a essere proprio per l'aiuto che fa la genetica, ed è molto importante, a capire attraverso la farmacogenomica quali sono gli effetti favorevoli, quali sono gli effetti altamente sfavorevoli. Addirittura alcune terapie non si possono fare se non si fa un test genetico prima, perché per vedere se in quei soggetti sono addirittura dannosi fino alla morte nel caso di alcune malattie da virus. Bene, diciamo, andando un pochino e spero anche velocemente avanti, dicevo che volevo parlare un pochettino anche di questo microbiota. E questo microbiota, insieme al genoma umano, fa di ognuno di noi un superorganismo perché veniamo considerati, essendo in una stretta associazione simbiotica, con tutti questi batteri che agiscono specialmente nel nostro intestino. Ovviamente questo è stato chiamato negli ultimi anni, proprio per questo disinteresse che ha avuto nel passato, un organo dimenticato. E questo organo sta rivelando, questo organo, se vogliamo chiamarlo così, questo insieme di batteri, stanno rivelando dei segreti che sono molto utili, molto rilevanti per comprendere alcune delle malattie umane. E anzi, si può dire che forse l'eccesso di interesse su questo campo ha prodotto che quasi in tutte le malattie, sia quelle infettive, ma sia quelle degenerative, fino a quelle neoplastiche, sono interessate dalla presenza o meno di una varietà di microbi che esercino le loro funzioni. Ci sono funzioni naturalmente importantissime, ecco perché sono dei simbionti e dei commensali molto utili al nostro organismo, perché naturalmente producono sostanze utilissime come vitamine e aminoacidi essenziali, riescono a detossificare dei prodotti dannosi che vengono attraverso la nostra nutrizione ingeriti nel nostro organismo e quindi è chiaro che loro creano nelle migliori condizioni, nelle condizioni che ho detto fisiologiche, un beneficio mucho a lì, perché anche loro stanno bene quando, così sembra perlomeno a noi, che stanno bene quando siamo entrambi nelle stesse situazioni. Ora, vedete un poco che noi siamo, come ho detto già velocemente, si credeva che noi nascessimo completamente sterile e forse in un certo senso questo è vero, perché veniamo subito però colonizzati già attraverso il parto, ma in realtà anche nell'utero si è visto che ci sono i primi segni di presenza di batteri che vengono ovviamente dalla madre. Questo microbiota intestinale che è la maggiore componente, direi solo il piccolo per cento degli altri microbiota che sono su tutte le mucose aperte all'esterno e su tutta la nostra superficie del nostro organismo, è il maggiore e questo è il numero di cellule che batteriche ovviamente che sono presenti nell'intestino sono addirittura di un ordine di grandezze uguali quasi a quelle che si presume che sono state più o meno contate, diciamo non una per una se posso scherzare, che sono 10 alla 13 e quindi queste sono addirittura uguali o maggiori. Abbiamo una quantità di taxa che sono dai fila fino alle specie sono una quantità molto grande nell'ordine di decine di migliaia e contengono naturalmente una quantità di geni che superano in gran numero quelli che noi consideriamo geni che vanno a diciamo a individuare a essere template di proteine e quindi sono addirittura 3,3 milioni di geni. Ora per quello che riguarda il problema del salto un poco perché diciamo il tempo scorre abbiamo diciamo che già nel cosiddetto nell'utero nel ventre della mamma c'è una contaminazione batterica che arriva fino ai tessuti scusate fetali e quindi questo incomincia a determinare alcune alcuni meccanismi molecolari cellulari fisiologici o anche talvolta patologici che poi si portano dietro o vengono modificati nel corso ovviamente della vita fino all'età anziana e uno dei più importanti forse sistemi del nostro organismo il sistema cosiddetto immune neonatale viene molto influenzato dalla presenza di questi batteri che già esistono prima della nascita e quindi anno importante nel molto più recentemente è stato creato questo termine di oleo bionte da un gruppo soprattutto ad Israele ma che diciamo dice molto bene che questo che questo che questo nostro organismo ormai deve essere sempre più considerato come la combinazione del microbioma con il nostro con il nostro genoma perlomeno considerato il genoma come punto di partenza per tutte le modificazioni che avvengono poi successivamente e agisce dal punto di vista anatomico metabolico e soprattutto immunologico durante lo sviluppo e durante l'evoluzione questo ologenoma comprende quindi questo genoma nostro umano chiamiamolo così che è altamente conservato cioè ha una velocità di mutazioni che certamente non sono paragonabili a quelle che avvengono nel microbioma dove c'è una velocità un dinamismo in risposta all'ambiente esterno molto elevato e soprattutto c'è questa fenomenologia che l'horizontal gene transfer mutation è molto elevato rispetto a quello che succede nel genoma umano bene abbiamo anche un core un core che secondo alcuni studiosi adesso un po' si sta perdendo questo concetto abbia un core che è uguale o abbastanza simile in uno stesso organismo e addirittura si mantenga nel caso delle generazioni ed è stato misurato appunto diciamo un poco nei resti diciamo umani anche di molti secoli e di molto tempo fa e questa parte che si chiama microbial core sarebbe diciamo sopravviverebbe anche ai cambiamenti diciamo così del del contorno dell'environment che sono avvenuti durante i secoli e come diceva Darwin non è la più forte delle specie che sopravvive né la più intelligente ma quella che è più capace di adattarsi ai cambiamenti del tanto per dare ai cambiamenti dell'ambiente tanto per dare un esempio di una ricerca che abbiamo fatto qualche anno fa nel nostro laboratorio è quella di un diciamo un case report per essere più precisi nel morbo di Crohn in giallo è la situazione della popolazione batterica qui c'è un indice particolare chiamato indice di Shannon ma siamo brevi perché il tempo scorre veloce e questo in giallo vedete è la situazione del pazientino alla diagnosi questo aveva 13 anni questo bambino e invece il verde e il blu sono le concentrazioni dei vari dei vari questi sono i generi se non sbaglio ma lo stesso è per i film e per diciamo le altri taxa microbici sono uguali a quelli dopo la terapia la terapia viene fatta con un latte formulato quindi questo è un bel esempio non solo della variabilità fisiopatologica che si ha in una tipica malattia ma anche della possibilità di revertare e quindi di compiere una operazione terapeutica importante a livello di questi batteri che determinano la risoluzione di questa diversità microbica che si è ripercorsa nel caso specifico anche sulla salute del bambino questo è un altro contributo dato sempre da noi nella malattia celiaca dove è noto una malattia che sta diventando sempre più importante l'1-2% della popolazione ne è addirittura affetta e anche qui abbiamo trovato un po' di novità cioè la presenza di una nesseria particolare una nesseria flavescence che era presente non a livello di dove viene studiato soprattutto il microbioma intestinale cioè nelle feci ma viene proprio al livello duodenale nella mucosa duodenale attraverso la biopsia dei nostri colleghi pediatri con cui abbiamo collaborato in questa ricerca e vedete che questa anche qui si ha una capacità di poter individuare dal film fino al genere e anche alla specie per la verità che tipo di presenza dei batteri questo ha dato la stura e si sono avuti quasi in contemporanea anche la scoperta di trigger virali con bellissime ricerche fatte da altri laboratori in America in cui si è visto che questi trigger infettivi di tipo virale o anche batterico ci sta anche qualche altro batterio che è stato proprio in contemporanea studiato e che porta a contribuire all'eziopatogenesi della malattia malattie autoimmune malattie da presenza nella dieta del glutine che viene eliminato con caratteristiche genetiche dovute ad alcuni marcatori specifici HL2 HL8 e anche HL7 bene vado un po' avanti questo è stato dimostrato anche nel topo e nell'uomo questa iperinfiammazione che produce questa nesseria isolata e anche la migrazione a livello dei lisosomi è diversa quando ci sta la nesseria rispetto ad altri batteri non patogeni e anche una specie di specificità è stato possibile dimostrare in un altro lavoro successivo perché questo è il rapporto tra il 18S il 16S 18S e dei funghi e questo invece dei batteri e invece i funghi non c'è alcuna diversità quindi vuol dire che c'è una specificità di tipi di batteri presumibilmente che possono essere trigger in questa malattia e che può portare speriamo a qualche risultato anche dal punto di vista terapeutico la cosa più interessante è ancora la continuazione non ancora pubblicata di questi di questi me ne chiedo venia diciamo che dimostra chiaramente come in nel loro faringe si trova la stessa nesseria trovata nel duodeno diciamo in diversi pazienti pochi per il momento quindi questo è naturalmente il problema sempre della quantità dei campioni e del campionamento in cui si vede come se fosse un tratto unico di infettività che parte addirittura dal loro faringe questo è sempre gli indici e volevo soltanto dire un po' per così ho visto in sala che ci sono dei bravi biologi che si occupano in particolare della parte forensica il microbioma come un tool già si sa che la biologia forensica dà un grande contributo a tante parti della nostra vita sociale purtroppo di quella anche non sociale se posso scherzare ma l'uso del microbioma è qualcosa di nuovo e come vedete anche questo porta a una geolocalizzazione quindi si può attraverso diciamo non prendere il campione della sigaretta toccato da qualche signore e quindi andare a vedere il DNA ma si può vedere dove è stato negli ultimi tempi attraverso lo studio del microbioma perché il microbioma è abbastanza individualista cioè l'insieme di queste specie quindi quasi qualitativa e quantitativa che si riesce a fare anche in poco tempo riesce attraverso l'uso di un sequencing ad high throughput quindi di un sequencing basato su un ribosoma non l'ho detto prima ma è chiaro che questa è una base tecnologica per poter vedere questi batteri ma è possibile fare una geolocalizzazione del singolo individuo per vedere le sue mosse dove è stata quello che si presume quindi è una cosa un po' divertente ma anche un po' che potrà essere utile alla società e questa è un'altra storia recentissima non sono riuscito ancora nemmeno a trovare diciamo la pubblicazione di questo notissimo cardiologo pediatrico di Stanford e è un caso simpatico perché simpatico voglio dire perché ogni cosa nuova porta anche una specie di simpatica osservazionale da parte degli altri ricercatori di chi fa ricerca è un case report dove un infante ha avuto un proprio appena nato lo stesso giorno che è nato diciamo ha avuto un qualche minuto ancora lei la ringrazio di questo avviso ha avuto un arresto cardiaco lei ha avuto la fortuna di trovare subito un defibrillatore da parte del medico perché l'ha aiutata diciamo a defibrillare quindi a vivere bene l'analisi molecolare fatta nel campione ha trovato subito la mutazione nell'Scn5A gene che non era tuttavia presente come si è visto dopo nella famiglia nessuna mutazione è stato trovato però in un altro test questo ha messo un po' in dubbio ma poi la cosa è stata ripetuta parecchie volte e quindi la ragazza si è definita che era la bambina l'infante per meglio dire che aveva un mosaico di due tipi di cellule nell'interno dello stesso organo e come si è fatto poi a capire questo si è andato da un esperto di single cell analysis in ciascuna cellula di white blood cell di cellule bianche e 33 avevano mostravano la normalità in questo gene e 3 erano cellule mutate e analoghe risultanze sono state trovate anche nelle cellule trovate nelle urine e nelle cellule trovate nella pelle quindi i 3 layers di cellule che nell'embrione producono i rettivi di cellule sono diversi e si staccano da una cellula primitiva solamente quando all'età diciamo di due settimane di un embrione che è nato soltanto da due settimane quindi vedete come diciamo ben presto si possono avere delle modifiche a livello del genoma sfortunatamente tanto per completare il discorso dopo pochi mesi questa bambina ha avuto un'altra volta un battito irregolare cardiaco ma ha avuto il defibrillatore ma purtroppo ha avuto un ci aveva il defibrillatore impiantato è ben chiaro e ha avuto un arresto cardiaco e lei l'unica cosa che hanno potuto fare per salvarla è ricevere un trapianto cardiaco bene questa come si è risolto che hanno preso questo cuore della bambina ormai aveva un cuore nuovo la bambina fortunatamente e hanno trovato in varie parti del cuore 5% di cellule mutate nella parte destra del cuore 12% di cellule mutate nel cuore sinistre quindi se si può trarre una conclusione tra il faceto e il serio è che noi non variamo soltanto da persona a persona il nostro non ho potuto portare dati sarebbe stato troppo lungo di quanta è la variabilità tra persona e persona del nostro genome ma noi possiamo variare anche da cellula a cellula quindi noi probabilmente siamo tutti già dei mosaici nonostante quello che crediamo molto simile bene il diciamo vorrei scusatevi se salto un po' di slide ma devo andare verso una parte più forse finale pochi minuti ancora e il problema delle mutazioni del gene sono molto importanti perché se ne trovano la valutazione della funzione perché esse possono essere patogene patogeniche possono essere quasi ormai c'è una classificazione abboltanza solidificata che viene fatta dalla bioinformatica in silico ma non è che sia la definitiva perché purtroppo sono diciamo sono abbastanza sono abbastanza e noi abbiamo per esempio nella nostra casistica molto elevata di malattie genetiche di diagnosi di malattie genetiche che noi facciamo anche a livello prenatale siamo passati a studiare la funzionalità delle mutazioni come si fa in tanti laboratori ovviamente e questa funzionalità abbiamo due attualità che facciamo sia facciamo come è stato accennato anche dalla precedente relatrice fare una serie di pannelli di geni in generale dovuto a malattie che sono confondenti tra di loro alcuni li fanno sulla base del prezzo ma noi siamo più propensi a cercare di farle sulla base delle malattie che sono confondenti per esempio nel caso delle malattie cardiovascolari ne abbiamo fatto tre poi ne abbiamo fatto cinque queste sono le tipologie di risultati che sono stati ottenuti ma io li devo saltare qui è stato trovato alcune mutazioni che non erano note è stato trovato non solo la mutazione ma è stata anche fatta uno splicing una necessità di capire come lo splicing produceva un'alterazione del messaggero e quindi della proteina e questo invece è un studio di elettrofisiologia abbiamo un piccolo laboratorio di elettrofisiologia che ci ha portato a dire per alcune delle mutazioni di canali del potassio e del sodio la loro patogenicità o meno questo è nel campo dei tumori come ha detto anche qui ancora la relatrice che l'ha preceduto ci sono tanti di questi pannelli noi ne abbiamo 7 o 8 e con molti geni e andando alla fine perché se no diciamo avrò qualche rimenata dal presidente abbiamo circa una questo è un altro sulla fibrosi cistica e sul diciamo e sui geni modulatori perché avendo una grande esperienza specialmente per merito del professore Castaldo del nostro dipartimento del nostro centro su questa malattia ecco che diciamo stiamo molto a proposito sono stati i primi a vedere questi geni modificatori della fibrosi cistica insieme ad altri gruppi internazionali ma adesso diciamo stiamo tentando di fare una diagnosi che sia complessiva su tutti i geni modificatori per capire la patologia prevalente dei vari organi e quindi l'attesa di vita questo invece è lo studio funzionale di alcune mutazioni nuove di BRCA1 e di BRCA2 scusate che vado un po' velocemente ma questo porta sempre di più a capire la medicina di precisione che riguarda quella subpopolazione che differisce tra gli uni e gli altri gruppi per la suscettibilità a una particolare malattia e quindi anche la biologia o la prognosi di queste malattie che loro possono sviluppare si può adattare a certi specifici trattamenti io sono un po' alla diciamo omonimia diciamo perdonatemi che dico questo cioè a usare precisione personalizzata allo stesso modo tant'è vero che preferisco in generale per quel che vale questa idea chiamare medicina individualizzata perché non deve rivolgersi solo al gruppo di pazienti che rispondono ad uno stesso farmaco perché hanno una stessa mutazione come adesso sta incominciando ad avvenire per la fibrosi cistica che è una cosa molto bella ma anche per altre malattie e anche di tumori per indirizzare la terapia dei tumori ma è molto importante perché diciamo l'individuo deve essere capito non solo a base della malattia credo che tutti ne siamo d'accordo ma deve essere capito e compreso come singolo individuo che può avere tante malattie nel corpo e ognuno di noi è diverso dall'altro un po' come il genoma quindi ecco che credo che sia finita ma qui sono delle piccole conclusioni che in fondo ho già detto nel corso della mia relazione e spero che possono avere dei momenti di attenzione da parte sia pur generici e generali da parte di chi diciamo studia questa questa materia la genomica e le sue derivazioni grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti